Salve a tutti, come state? Spero tutto, tutto bene. Allora, come avrete letto dal titolo, faremo un video in Audible, però nel frattempo comunque leggerò il libro per il test di ammissione all'università. Perché se riesco per quest'anno vorrei farlo così nel frattempo io leggo, studio e voi vi rilassate. Iniziamo. Allora, di un'altra domanda, adesso, sempre, signori, filosofi di quanto riguarda la filosofa, non essere sempre viva, Il nostro portatore è di risponde di trattare,engo un'altra domanda, posso dire, viviamo, no, 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 no Grazie, 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 grazie ragazzi. Grazie, 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 grazie. potrei prenderle una parte che guarda un altro piante se no si 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 a dire che la propria parta do kleinare è partecipare all'inizio rolesalatà quindi un sector economico vi conf stringe per Ora Sovra incomoda se eserà lullingossia è splت Vaccin azza felice se chiuderezza di ris TB ad anni per bollissare le everie per creare più sui riscari perdono quelle lettere per bollisse che prevenne la qualità e per la minima stanza di tutto il sistema mondiale profusionali con la spagna troppo segnale ai civili quanto riguarda il artery tutto il virgolo quanto riguarda il protegg kicking per questo ruolo che sogl availability non lo ha non riguarda quelle ITS però no ne raccomandiamo cosa fa più bello perché aì non aasi la propostizione così mi scherzo qualuna dicontanatab ihre perché fatto che ciò vedere el'ī adult there è molto anto nelle altre frasi far l'uomo tra l'150 di controllo di un sistema di armi armandola sotto controllo delle propositure dei propos 오� mordentoltuba tra l'abbio pruno e del top aperto nel che suono facciare una mancanza verticale ogni sor widow di derniere calcoltura tra l'unica di castello per portare almeno le prime훈ze sono censura come la primavera che non averma manegue le mandi of king la con le proprietà dicit서 el'unica della formola non me lo faccio in un po' della dottolaowa della giovanea della promozione che riguarda la donna del comproz del episodio non tutti sono tutta la giompalla sono le canzoni non tutti sono se sei qualcosa che non è almeno nel mondo non tutti sono tutti sono nelорovol neloro nel'olipoli nelettorato almeno 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 Grazie a tutti attrazione sono l'accusazione di questi gesti no, se lo sappiamo tutto o meno continuiamo a un altro po' di segreti, lo sono senza che non sono un problema di un altro problema che è la condizione quella della cumulazione e i metalli c'erano le piccole e le scampine, cosa che su non sono le stesse attrazione dai, potrebbe essere non tirare ma la medicina, non potrebbe essere guardata per il nostro programma il problema è un altro volato un'altra cosa che ho avuto seguito è un problema non è una grossissima di una posizione tecnologica e le condizioni necessarie sono sempre condizioni con i pesticidi delle piante grano d'orco non si ammalano le prime e secondi condizioni lei si riguono oltre a cui sono tratto le piante con i pesticidi si fermano di si ammalano ma anche se le piante sono molto tecniche e le piante trattate come i pesticidi condizioni sembrano le piante le piante di grano d'orco non si ammalano le prime e poi si ammalano le prime e quindi ma c'è比lge si èlaughs o no se non è non è sì non ti non ti no non ti non se vuoi che da vedere il pericante di Y e poi non pensi che io sono un solo da X e poi dupendo un altro apportato questa è una cosiddetta di Y è in una cosiddetta di Y Il problema di cucina della bolla è a disposizione di cui si è ovviamente molto raccomando il suo gioco e questo vero che avevo controlla l'uomo perché rappresentativamente, quanto spesso mi permette, potreste incontrare un problema che vi vedo indicato che tutti si che io vedo. Exempio, Manila, via della crono di Mirella che mi è la mano dell'oretta e non della crono di Manilo che ha la figlia di Piszina. la piscina è più emotiva e la razione di parente alla rincontro nella mia zona di Menele iva e la mamma nel pesante solo l'uomo dell'oro, l'oro, 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 l'oro ed il nostro respite affatto su un po' di posso avvicinare il vostro piano e il snotio allora e così perciò ci conviene iniziare a presentarne con la formazione di corto dei soggetti, perciò che inizia il quesito si considera un'altra che in realtà se potrebbero essere una porzione di formazione, non meno un'altra, la risoluzione al quesito significa il quesito della formazione di fare il sole in attenzione che paga appellato la sorrispita per la sorrispita e l'altro risoluzione che s'olano le attenzione della colonna e l'attentione della trattata e l'attentione della colonna e l'attentione della trattatata c'è un genere per esempio che potrebbero essere internazionale per la lingua indicattuta di mancanza della colonna riguarda il quesito del quesito dell'attentione cioè anche l'altro formaggio di palattado sono distrattori in quanto la proporzione fa la mamma che lo rende con il pantalodimane il sentimento del risultato non c'è nulla ma la Cattolica non c'è nulla l'età 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 ma non sappiamo che si partengono, a chi partengono il portanto alla semplicitazione di 90 anni a 30 anni più di 20 anni, più di 20 anni, più di 20 anni, più di 20 anni come abbiamo inizio il giuscolo dell'età costruiamo un'altra bella sempliziazione sulle righe, il nome del personale dell'età, sulle colore e con il personale dell'età e con il personale dell'età e con il personale dell'età apparremo con un'affermazione conferma l'incolo 1 questa è l'affermazione conferma l'incolo 1 e 1 rappresenta 1 rappresenta del rato delle relazioni positive 2 rappresenta delle relazioni anche di mentalizzazioni con il nostro problema signore ma rimaneremo anche di 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 l'alzare con la terrenome e con i codici di rispondenti e la signora genera di 23 anni più di 19 e il senso che genera di 21 anni più di 18 quindi su una mamma l'icolo di che viene a 18 anni e 0, se resta delle tanti e diventano lo stesso vale per le coraggine e quindi che dimenticazione di cui viene detto che c'e' ne sono due virgolini ma anche il caso dell'agriggerazione di un'angelo non rimanere di una ristorazione di un giorno si porta il passo che il nostro il nostro sposo con il nostro approccio con il nostro promenio dall'amoramento di ripsulazione in aggiornamento di un rapporto in questo quarto, qui ci sono nascostante ci sono in un ritiro il nostro patrimonio che si porterà un capimento di unangsiturno Allora ragazzi, ho letto un po' di pagine, spero che il video sia stato di vostro gradimento E comunque, per chi magari si è perso i video, ho letto il libro per fare il test della missione all'università di comunicazione, innovazione e multimedialità Quindi comunque, diciamo scienza della comunicazione E per il resto niente, spero vi sia piaciuto, se mi volete consigliare qualche tipologia di video, fatela O comunque volete farmi delle domande, scrivete tutto qui sotto nei commenti E niente, noi ci vediamo con un prossimo video Ciao